Bellizzari picanzoli, siamo a quest'estriere, ennesimo giorno di ritiro, ieri siete andati a provare la tappa numero 8 della Tour dell'Avenir, come l'avete trovata? Sì, noi siamo su da poco, siamo su da due giorni, quindi sono un pochino i primi giorni di ambientamento, ieri abbiamo provato l'ottava tappa dell'Avenir, quindi l'ultima tappa e lasciamo Giulia però. Oddio, sicuramente è una tappa dura e soprattutto anche perché sarà l'ultimo giorno di gare, lui ha più esperienza perché l'anno scorso diciamo che la tappa era simile dell'ultima tappa dell'Avenir dello scorso anno, quindi... E quale sarà la salita di giornata? L'Isoar, ma poi ci saranno altre due salite prima dell'arrivo, sono molto impegnative. Tu hai detto Davide che l'hai fatta l'anno scorso, com'è stato l'Isoar in gara? Sì, l'anno scorso era molto simile il percorso, partivamo un pochino prima, quindi c'erano più chilometri prima della salita, però alla fine è una salita molto lunga, molto dura perché l'altezza è molto alta, arriva fino ai 2700 metri della cima e poi c'è una lunga discesa, quindi bisogna stare attenti un pochino, non andare in crisi lì per cercare di risformare le energie per il finale. Giulio, quale consiglio chiederesti a Davide per affrontare questa tappa, più che questa esperienza in più? Sicuramente l'alimentazione, perché in una tappa così se non ti alimenti bene da un momento all'altro potresti saltare. Affronterete i migliori giovani in terra francese, quindi sarà una tappa difficile, un tour del secondo Davide se non sbaglio, insomma, anche tu che esperienze hai portato via l'anno scorso e cosa ne pensi della gara? Sì, sicuramente rispetto all'anno scorso più esperienza, quindi so dove ho sbagliato e cercherò di migliorarmi, però comunque il livello è molto alto, però siamo una squadra forte, quindi secondo me possiamo veramente far bene. Intanto grazie. Grazie. Grazie.